E dopo la blu fucsia, dopo la pipinca, formazione impegnante, non particolare nel settore professionistico di vita, ma la numero 64 sarà un'azzurra, sarà un'azzurra in prospettiva Valkenburg, eccola, Mario Muccioli, la treca romagnola, eccola, 64, e poi la numero 63, Alice Racisi da Osio Sotto, Bergamo, un'atleta bergamasca, allora, grande applauso, l'uomo particolare che sia di grande augurio, perché sarà tra l'elite nella spedizione azzurra, Mario Muccioli, numero 64, Muccioli cresciuta alla corte di Giordano.